Loro credevano che Dio poteva, credevano che Dio poteva ogni cosa, ma perché allora Dio si arrabbia? Perché quando Dio ti crea un'opportunità, una porta aperta e tu non ci credi, lo stai deludendo. Quando Dio apre una porta, ci devi entrare con fede. Perché quando Dio dice che qualcosa lo vuole fare, è il tempo di entrarci, non di dubitare. Il popolo di Israele è stato inviato in Cana e Dio ha detto, attraverso anche Caleb e Giosuè, andiamo perché Dio ci ha detto di andare. Quando Dio ti apre una porta, non fare passi indietro perché lo stai deludendo, non sei coerente, non stai credendo che Lui ti ha chiamato a fare cose straordinarie. Mi state seguendo? Dio non era deluso perché loro non credevano in Lui, ci credevano. Era deluso perché non credevano in loro stessi. Avete visto la mia mano in ogni cosa? Avete visto il mio spirito operare in vostro favore? E ora vi vedete come delle cavallette? No. No. Voi siete miei figli. Voi siete miei figli. Grazie a tutti.